Allora, comunque adesso io sono ancora municipale perché un marocchino di merda, musulmano, che cazzo che è, mi ha prestato lo scooter per andare da mio padre. Adesso non è giusto che io debba saltare l'incontro con mio padre perché soltanto un deficiente, cocaenomane, ha detto prima di sì e poi di no perché la chiave dice che c'era lui. Ma a me la chiave me l'ha fregata la doppia perché un altro tipo mi voleva rubare il motorino perché si credeva di essere l'ultimo cretino arrivato sulla scena. Non hanno capito che la scena la decidiamo noi. Queste mascherine sono tutte inculate che vi mandano a pecorino. Non ho più niente da dire, vi faccio soltanto e non mi va.